Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Allora, ho installato ormai da più di due mesi l'alimentazione GPL all'interno del motore del camper. E quindi a questo punto siamo arrivati un po' a tirare le somme. Insomma, posso dare già qualche parametro su quelli che sono i consumi, il comportamento su strada del veicolo, quali sono insomma i pregi e i difetti. Piatti lavati, state lì e incominciamo. La prima cosa che è cambiata, senza dubbio, è la ripresa del motore. Sembra che la coppia venga resa più disponibile da subito. Non c'è quel vuoto di cambio nel cambio di marcia, quel vuoto di potenza che c'è tra la seconda e la terza e te ne accorgi in particolar modo, nei tratti in montagna, nelle curve, nei tornanti, insomma c'è un inaspettato brio che non fa male perché Ginger è più pesante rispetto al camper di prima avendo la stessa motorizzazione, 2.3 cilindrata, multijet, 130 cavalli. Solo che blu pesava ben 300 kg in meno rispetto a Ginger e questi 300 kg si sentono nel comportamento su strada. Avendo installato il GPL devo dire che questo gap che c'era tra Ginger e c'era tra blu e Ginger è scomparso. Ma ora andiamo un po' a vedere bene nel dettaglio invece quali sono i consumi e quali sono i vantaggi. Vi ho preparato un foglio in Excel, giriamo la telecamera e poi state lì perché la rigiriamo e vi do ancora qualche parere personale proprio dopo aver percorso ormai più di 6.000 km avendo l'alimentazione GPL. E ora veniamo al nostro file. Come vedete la riga 2 prevede l'acquisto di 80 litri di diesel perché il serbatoio di Ginger è di 90 ma io ne voglio per comodità tenere sempre 10 di riserva. 80 litri ha un costo di 1,85 euro fa sì che come vedete nella colonna D il totale sia 148 euro per il pieno. Mediamente percorro con Ginger 11 km con 1 litro pari a 880 km in totale. Con la miscela diesel GPL le cose cambiano perché ho il diesel presente al 60% e il GPL al 40%. Questo perché il veicolo quando funziona GPL funziona con una miscela. Io ho optato per una soluzione di avere il 60% diesel e il 40% GPL. Tradotto economicamente 1,85 euro al 60% e 0,70 del GPL al 40% generano 1,39 euro per 70 litri di miscela. Per 70 litri di miscela 1,39 euro un costo totale di 95 euro percorro 13 km invece di 11 perché c'è un risparmio proprio di carburante per via del fatto che il veicolo ha una resa migliore il motore. Vado a percorrere 910 km che sono grande linee quanto percorrevo con il gasolio. Come vedete era 880 rispetto a 910. Andiamo però un po' a vedere ulteriormente i dati. Ovviamente io risulto, avendo utilizzato 40 litri di gasolio, che ne ho altri 40 e posso decidere di continuare a percorrere fino ad arrivare ad un'autonomia di 1.350 km. Quindi per chi fosse orientato al discorso di quanta autonomia ho, sì, ho più autonomia utilizzando anche il GPL rispetto soltanto ad utilizzare il gasolio. In realtà quello che mi interessa e che interessa anche penso la maggior parte di voi è la differenza. Ovvero la mia spesa iniziale sarebbe stata di 148 euro con il diesel. In realtà con la miscela GPL e diesel ne ho spesi 95. 148 meno 95 generano ben 53 euro di differenza. Pari al 35% di risparmio su ogni pieno. Se lo vogliamo leggere in maniera diversa, ogni 3 pieni di gasolio ne ho uno gratuito perché la miscela me ne genera per ogni pieno 53 euro, per 3 pieni fa 150 euro, circa il costo del mio pieno con diesel. Ma leggiamolo ancora di più, se sono 53 euro ogni 880 km che percorro, saranno 530 km su 8.800 km e per raggiungere il costo dell'installazione, che è circa 3.000 euro, devo percorrere circa 50.000 km all'anno. Ora, come avete visto dai dati, è molto semplice. Io mediamente percorro 100.000-120.000 km all'anno, vuol dire che in sei mesi mi ripago ampiamente l'impianto GPL. E nel caso in cui uno percorra solo 10.000 km all'anno con il camper, diciamo che nel giro di cinque anni l'impianto è ripagato. Ora vediamo un po' di spiegare quelli che sono i luoghi comuni del GPL, che normalmente uno può pensare perché ce l'ha sulla propria automobile o sul proprio veicolo a benzina, state lì. Ora veniamo a sfatare un po' di miti e a dare anche delle risposte un po' chiare. Soprattutto le do in base alla mia esperienza, poi leggetela come meglio credete, ma se ve lo dico è perché lo sto provando in prima persona. Innanzitutto parliamo di una miscela. Questo significa che il motore diesel, a differenza del benzina, non ha o benzina o GPL, ma ha o diesel oppure una miscela diesel-GPL. Io prima di arrivare a questo rapporto 60-40 ho voluto provare diverse strade perché variando questo rapporto si può ottenere maggiore risparmio perché si usa di più il GPL, maggior brio del veicolo per esempio. Quindi bisogna un po' trovare l'equilibrio e poi come prima base, a monte di tutto, bisogna trovare un ottimo installatore. È l'installatore che fa la differenza perché è l'installatore che è in grado di dirvi pregi e difetti. E un installatore che abbia già provveduto a fare questi tipi di lavori, cioè di installazioni su veicoli mossi con un propulsore diesel è sicuramente un'ottima garanzia perché venga fatto in maniera adeguata e giusta l'impianto. Anche successivamente, perché qualche volta può succedere, come nel mio caso è successo, di dover ritornare. Ma di ritornare perché? Perché devo trovarmi l'equilibrio giusto di quella famosa miscela che vi ho detto. Perché è sempre bene, dopo aver fatto questo tipo di intervento, bisogna tornare dopo 2-3.000 km e farlo controllare che tutto funzioni in modo corretto. Vi ricordo che la miscela GPL diesel va a pulire condotti di aspirazione. Questo vuol dire che avrete un motore più fluido, meno rumoroso e più brillante. Fate queste premesse, bisogna anche dire un'altra cosa. Non esistono costi supplementari di manutenzione, assolutamente. Io personalmente ho anche una Panda benzina GPL che dopo 10 anni ho dovuto spendere 450 euro per sostituire il bombolone. Però io in 10 anni ho percorso 110.000 km con la Panda 4x4 GPL e ho ampiamente ammortizzato il costo di questa sostituzione. Non vi sono costi ulteriori di manutenzione. Diffidate da chi vi dice ma poi quando vi fermate a fare GPL non ve lo fa un impianto di erogazione perché l'impianto è omologato ed è trascritto sul libretto. Questo vuol dire che in qualsiasi momento voi potete fornire il libretto con la trascrizione e l'omologazione dell'impianto. Mi sembrava giusto darvi qualche informazione perché adesso ho degli elementi in mano per dare delle risposte a chi magari aveva qualche dubbio e anche a chi non sapendo della materia parla un po' a sproposito. Diffidate sempre, affidatevi delle officine che sanno fare il loro lavoro, che sanno darvi il supporto anche posteriormente all'intervento. Io mi sono affidato a Eco World Gas sia per l'installazione del serbatoio sulla Panda GPL benzina, in questo caso anche sul diesel. Eco World Gas è presente in tutta Italia con le sue officine specializzate, la sede è a San Sepolcro in provincia di Arezzo. In questo caso potete tranquillamente contattare l'azienda, chiedete di Enrico, dite che siete amici di Cristiano e saprà trattarvi nel migliore dei modi. Mi piaceva darvi e fornirvi degli elementi oggettivi che trovano riscontro adesso su strada. Come dico sempre fate i bravi perché a fare il cattivo ci penso io. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!